Buongiorno, in questo video utilizzeremo il kit del gorgogliatore per illustrare la traspirabilità e la durata di Tyvek rispetto a una pellicola microporosa. Ho due campioni di tessuto davanti a me. Uno è un film microporoso, l'altro è il Dupont Tyvek. Ciò che faremo è iniziare con la pellicola microporosa. Il produttore di questo materiale afferma che si tratti di un materiale traspirante. Viene utilizzato il termine pellicola microporosa per descriverla, dando l'impressione che sia porosa. Ciò che ho fatto è stato fissarla in questo vano, sul fondo del quale c'è acqua, poi ho una peretta che quando viene schiacciata sposta la pressione dell'aria su un lato. La capovolgo. Quando schiaccio la peretta, se questo materiale fosse traspirante, senza dubbio vedreste fuori uscire le bolle d'aria. È assolutamente non traspirante. Si tratta di un tessuto rivestito in plastica ed è proprio quel rivestimento plastico che lo rende completamente non traspirante. Quindi, contrariamente alle affermazioni del produttore, la pellicola microporosa non è un materiale traspirante. Una delle sfide con i tessuti in pellicola microporosa, come i DPI, sta nel fatto che la protezione che questo tessuto presenta è data da uno strato di plastica sottilissimo. Quindi, se prendo la mia unghia, che non è particolarmente affilata, e cerco di grattare la superficie di quel materiale, poi ripeto esattamente lo stesso test, lo capovolgo, quando lo schiaccio, ecco, adesso è altamente traspirante. La ragione per la quale traspirante è che ho compromesso lo strato protettivo che si trova sulla superficie di quel materiale. E in ogni caso, nel tempo, l'acqua passa comunque sul fondo. Quindi non solo la pellicola microporosa non è traspirante, ma la protezione con la quale contavate di tenere al sicuro i vostri lavoratori è un sottilissimo strato di plastica, che si danneggia molto facilmente. Adesso facciamo la stessa cosa con Tyvek. Metto qui Tyvek, la blocco sul fondo. Tyvek è davvero un materiale permeabile all'aria. È sin da subito altamente traspirante. Tyvek respira bene. E la cosa bella di Tyvek è la protezione che ottieni. La resistenza alle particelle e la protezione che ottieni da Tyvek non è un trattamento superficiale, non è uno strato sottile. Tyvek è Tyvek in tutto e per tutto, completamente. Posso graffiarlo all'infinito, poi lo rimetto al suo posto. È ancora traspirante e non ho rovinato il tessuto. L'acqua non passerà. Non ho compromesso le prestazioni di Tyvek in termini di protezione. Questo è il kit del gorgogliatore ed è ciò che utilizziamo per illustrare la traspirabilità e la durata di Tyvek rispetto a una pellicola microporosa.